Musica E' stato presentato sabato 12 novembre presso la Sala Convegni della Banca Picena Truentina d'Acquaviva il libro postumo di padre Umberto Picciafuoco dal titolo San Marone Vescovo di Tripoli di Siria. Alla presentazione del manoscritto realizzata grazie al prezioso e fondamentale contributo della Banca Picena Truentina erano presenti il presidente della Banca Picena Truentina Aldo Mattioli, padre Fernando Campana, il dottor Paolo Schiavi e il professor Luca Marcelli. Quest'opera vuole essere il compimento di un lavoro di studio e ricerca che padre Picciafuoco aveva portato avanti per oltre vent'anni al fine di stabilire il vero luogo del martirio di San Marone, apostolo e primo martire del Piceno. Questo libro in qualche modo è un atto dovuto nei confronti di un uomo di chiesa, di uno studioso attento e meticoloso che aveva dedicato con passione fervida numerosi anni della sua vita a cercare di far luce su un mistero avvincente ovvero dove veramente è morto San Marone, dove è stato consumato il suo martirio e il movente.